Il primo piano e al piano terra sono caduti tutti i mobili, gli oggetti, al piano seminterrato sono cadute tutte le pareti, ho anche dei gatti seppelliti in là, veramente, che non lo riesco a contare. La casa mia è di recente costruzione, è un desismo del 100-200, ha danneggiato più le zone basse, le zone alte per niente, ma perché sono fatte bene, 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 se no a quest'ora c'è la mano qua, più alto, un pochettino più sotto e c'è un'altra costruzione a Poggio Felice che si è danneggiata pure. Grazie a tutti.